La magia dell'arte, non c'è una spiegazione, l'arte, ecco, abbiamo creato le celle di risolamento, un set cinematografico, ma chi si è accorto che hanno le celle di risolamento? Dove è stata la differenza in questo mese tra noi e gli agenti di polizia penitenziari e voi? Si è vista la differenza? No. Quindi l'arte ha reso tutti quanti uguali. E' la magia dell'arte, della cultura, non c'è niente da fare. L'amicizia da Bruto e Cassio, io credo che Cassio voglia bene a Bruto, però è anche vero che Cassio è molto calcolatore e deve fregarsene a un certo punto dell'amicizia perché c'è una ragione di Stato. Cesare per una democrazia deve essere eliminato.